Dal Green Pass ai test, dalle mascherine al distanziamento, dagli orari scaglionati alle menze. Stabilite le regole per provare a garantire le lezioni in presenza. Dopo una lunga trattativa notturna tra venerdì e sabato, con l'ok dei sindacati, il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha firmato il protocollo di sicurezza a scuola e la circolare è stata inviata agli istituti. Il protocollo, insieme al DL111 del 6 agosto e al piano scuola 2021-2022, è parte del tridente normativo che disciplinerà il ritorno sui banchi. Manca meno di un mese in Abruzzo allo squillare della prima campanella. Il governo non dà disposizioni precise per quanto concerne gli ingressi e le uscite. Ogni scuola farà come le pare, stabilendo eventuali orari scaglionati e accessi alternativi. Lo stesso vale per le menze, dove dovranno esserci i dispenser per il disinfettante, ma non saranno più obbligatorie le stoviglie monouso. Negli ambienti scolastici dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica. In classe, a partire dalle scuole elementari, bisognerà stare con la mascherina e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. I banchi, invece, saranno disposti ad almeno due metri dalla cattedra dell'insegnante. In classe sarà fondamentale, inoltre, garantire un buon ricambio d'aria. Sarebbero opportuni i condizionatori, cosa che nelle vetuste scuole italiane, dove spesso anche i termosifoni malfunzionano, sono cosa più unica che rara. Si consiglia quindi di tenere le finestre aperte, almeno fino a quando le temperature lo consentiranno. Resta obbligatorio il Green Pass per il personale, senza il quale, dopo cinque giorni, scatterà la sospensione senza stipendio fino all'ottenimento del certificato verde. Le scuole, inoltre, mediante accordi con le ASL o strutture diagnostiche convenzionate, potranno utilizzare risorse straordinarie per garantire tamponi gratis ai docenti, ma solo a quelli non vaccinabili. L'obiettivo del ministro, così, è quello di non consentire alcuna agevolazione a chi non si è ancora deciso a ricevere la propria dose. I sindacati, poi, chiedono nuove corsie preferenziali per l'immunizzazione, soprattutto in caso di un'eventuale terza dose. Quella del personale scolastico, infatti, è stata tra le prime categorie ad essere immunizzate e i nove mesi di validità del Green Pass non basteranno di certo a coprire l'intero anno scolastico. In conclusione, chi ha una temperatura corporea di 37,5 gradi oltre, oppure altri sintomi, dovrà restare a casa, ma ai vaccinati basterà una sola settimana di quarantena per poter tornare in classe dopo l'esito negativo del tampone.